La calda estate italiana dei VIP, l'ultimo a essere sbarcato sulle nostre coste Bono Vox, che nelle ultime ore ha raggiunto Gallipoli, in Puglia. Le foto del frontman degli U2 sono state pubblicate dalla pagina Facebook del ristorante Marechiaro, dove Bono si fermato con la moglie e altre sei persone per un paio d'ore e ha gustato un men a base di aragosta e gamberi viola di Gallipoli. Al termine del pranzo ha accettato di farsi ritrarre con i fan. Il gruppo è arrivato a bordo di un gommone, dopo aver lasciato il lusuoso yacht nei pressi del porto di Gallipoli. Grazie a tutti.